Raccolta rifiuti, il comune di Albino vince il primo round al TAR. Il tribunale respinge la richiesta di sospensiva presentata da quattro operatori. Lavori in arrivo all'oratorio di inclusione. Gli interventi partiranno dopo la festa che come ogni anno conclude anche l'avventura del CRE. Riapre il ristorante a cielo aperto di Pisogne. Giovedì torna a lungo la Goloso. Quest'anno anche un menù vegetariano. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Apriamo quest'edizione del telegiornale con la cronaca. Due anziane di parre sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto nel pomeriggio a Sovere. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 14 lungo la provinciale 53 per l'Overe all'altezza della rotatoria che permette di raggiungere il centro di Sovere. Dalle prime informazioni sembra che l'auto su cui viaggiavano le due donne sia uscita di strada finendo contro un ostacolo. Per i soccorsi la REU ha inviato sul posto l'elicottero da Bergamo e due ambulanze. Una delle due ferite è stata trasportata in elicottero con codice rosso alla poliambulanza di Brescia. Da quanto si è potuto sapere sarebbe fuori pericolo. L'altra è stata invece accompagnata in ambulanza al Papa Giovanni di Bergamo dove è giunta in codice giallo. Avete sentito dai titoli il TAR di Brescia ha respinto la domanda di sospensione cautelare della delibera con cui il Consiglio Comunale di Albino aveva affidato il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Al Tribunale Amministrativo Regionale si erano rivolti quattro operatori del settore. Ad essere contestato era soprattutto l'affidamento diretto a una società partecipata dal Comune senza passare attraverso una gara. Abbiamo intervistato il Sindaco di Albino Fabio Terzi. La delibera di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del Comune di Albino è finita davanti al TAR. Nei giorni scorsi c'è stato un primo pronunciamento del Tribunale, un'ordinanza e di fatto il Comune ha vinto il primo round. Sì, decisamente possiamo dire questo. Noi a fine aprile in Consiglio Comunale abbiamo deliberato l'affidamento del servizio raccolta e rifiuti e spazzamento strade in house, cioè a una società interamente pubblica di cui il Comune di Albino detiene delle quote. Questa nostra deliberazione è stata impugnata da quattro operatori che hanno fatto ricorso al TAR per l'allunamento di questo atto e contestualmente hanno chiesto la sospensiva di questa deliberazione. Il TAR ha avuto una prima udienza l'11 luglio con cui ha analizzato la sospensiva e ha emesso un'ordinanza con cui ha rigettato completamente la sospensiva. Ma io direi che ha fatto ben di più, motivando il rispingimento della sospensiva del nostro atto, è entrato già a mio modo di vedere molto nel merito. Sono stati fatti alcuni rilievi da parte del TAR riprendendo quello che era il testo della nostra relazione sulla congruità economica e anche le note difensive dell'avvocatura comunale. In sostanza è emerso che l'affidamento in house è una procedura non eccezionale ma ordinaria per un Comune per affidare proprio dei servizi pubblici di rilevanza economica a una società interamente pubblica. Ci sono già riferimenti sia a altre sentenze del TAR che al Consiglio di Stato che evidenziano come un Comune possa tranquillamente affidare questi servizi a rilevanza economica, servizi pubblici, a una società interamente pubblica che costituisce una procedura ordinaria. E questo è molto importante, questi riferimenti a sentenze già del TAR e anche del Consiglio di Stato. Quindi grande soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale e anche degli uffici che hanno lavorato bene in questi mesi mettendo a punto questa nuova impostazione sul servizio di raccolta rifiuti e di spazzamento a strade. Adesso il TAR dovrà pronunciarsi nel merito, nel frattempo il Comune va avanti comunque con l'ITER? Assolutamente sì, ovviamente il rispingimento della sospensiva ora ci permette, potevamo anche prima effettivamente procedere a iniziare con il nuovo gestore, con questa società pubblica, la Servizi Comunali, ma in via cautelare abbiamo preferito fare una proroga tecnica al gestore uscente proprio per affrontare il TAR in condizioni di supponenza o di superbia, ma adesso sicuramente con questa ordinanza che respinge in toto la sospensiva ci permette tranquillamente di procedere e affidare al nuovo gestore, questa società interamente pubblica, il servizio di raccolta rifiuti e di spazzamento a strade. In arrivo due chiusure per lavori su altrettante strade della Bergamasca, si tratta della ex statale 671 della Valle Seriana e della provinciale 76 Monasterolo Endine Gaiano. La prima chiusura riguarda la Galleria Montenegrone, all'interno infatti la provincia di Bergamo ha programmato lavori di manutenzione straordinaria dei sistemi di videosorveglianza e dei rilevatori di parametri ambientali. L'ordinanza prevede la chiusura notturna della Galleria dalle 21 di giovedì 19 luglio alle 5 del mattino di venerdì 20 e poi ancora dalle 21 di venerdì 20 luglio alle 5 del mattino di sabato 21. Chiusura diurna invece sulla provinciale 76, la provincia ha previsto lavori di manutenzione della sede stradale e lo stop al traffico riguarda la strettoia di San Felice ad Endine. La chiusura sarà nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 12, le 13 e 30 e le 19, da domani mercoledì 18 luglio a venerdì 20 luglio. Il traffico verrà deviato sulla statale 42 mentre verrà garantito l'accesso agli abitanti del centro storico. Ieri ci siamo occupati del Fondo regionale per lo sviluppo delle valli prealpine che porterà sul territorio bergamasco oltre 2 milioni di euro di contributi. Per la maggior parte sono destinati alla Valle Seriana e Valle di Scalve grazie a un progetto presentato da comunità montane e comuni con il supporto del Parco delle Orobie e del CAI. Arriverà oltre un milione di euro, per essere precisi, 1.290.000 euro sul territorio della Valle Seriana e della Valle di Scalve. Come è stato possibile ottenere questo risultato? È stato un risultato ottenuto grazie all'intervento di 8 comuni della Valle Seriana e 4 comuni della Valle di Scalve. Un lavoro che ci ha premiato proprio per la strategia di coinvolgere le due comunità montane che ci hanno portato maggior punteggio e il bando prevedeva l'inserimento di comuni limitrofi con popolazione ridotta fino a un massimo totale di 15.000 abitanti. Il bando ha avuto esito positivo, abbiamo avuto l'ufficialità proprio in questi giorni, 1.290.000 euro per un investimento totale di circa 2.272.000 euro. Ringrazio poi il Parco delle Orobie che ha sponsorizzato con 30.000 euro parziali di questi interventi e con il CAI di Bergamo che con 50.000 euro permetterà la realizzazione per quanto riguarda il progetto di comunità montana per la riqualificazione della strada agro silvopastorale che collega il rifugio Alpecorte. I contributi arrivano dal Fondo regionale di sviluppo delle valli prealpine. Come sono stati individuati gli interventi da attuare sui singoli comuni? Allora ogni singolo comune ha avuto la possibilità di scegliere le priorità che aveva in essere però tenendo sempre presente che tutte le attività che venivano avanti dovevano avere una priorità legata al territorio, all'ambiente e al turismo. Quindi in base a questo concetto si è costruito appunto questo programma, ogni singolo comune quindi ha potuto finanziare delle opere che possono essere qualificazioni di piazze, sistemazione di strade oppure anche sistemazione di sentieri. Ivan Caccia, Presidente del Parco delle Orobie Bergamasche, Sindaco di Ardesio. Come è stata costruita questa strategia che avete presentato in Regione? Beh innanzitutto è stata costruita lavorando insieme, otto comuni dell'Alta Val Seriana, piccoli comuni, il quattro della Val di Scavele, due comunità montane, i soggetti che diceva Presidente Cominelli, un lavoro importante, un primo lavoro di aggregazione che ha dato dei frutti ottimi e sul quale magari costruire qualcosa anche per il futuro. Un lavoro partito dal basso con un confronto serrato di parecchie sere con i comuni e i rappresentanti delle amministrazioni locali, tenendo ben presenti quelli che erano i criteri del bando, cioè individuare una strategia, costruire su questa strategia un cronoprogramma, un cofinanziamento degli indirizzi e presentarlo dopo l'ammissione del finanziamento. Così è successo in giorni scorsi a Bergamo, l'abbiamo presentato, l'assessorato regionale alla montagna è piaciuto, in questi giorni appunto la pubblicazione del bando. Come diceva giustamente il Presidente Comunità Montana Cominelli, 1.290.000 euro a fondo perduto, ma che muoveranno in questi due anni, 2018-2019, 2.200.000 euro di interventi complessivi su 12 comuni. Quali sono i progetti principali anche dal punto di vista dei fondi? Si parte da opere complesse come il completamento della piazzola i rifiuti di Vilminore di Scalve, a opere meno complesse ma più concrete come asfaltature, qualificazioni di sentieri, strade, illuminazione pubblica, parchi gioco e quant'altro. Insomma i bisogni e le esigenze di base per il residente, ma di cui beneficerà anche il turista, tant'è che la strategia è proprio stata impuntata su ambiente e turismo proprio per questi motivi. Ricordiamo in breve i comuni? I comuni sono, si parte da Gorno che è l'estremità per il meridionale, Premolo, oltre a Senda, Ardesio, Valgoglio, Gromo, Gandelino, Valbondione, i quattro a Valle di Scalve che ricordo sono Colle, Reazione, Schilpario e Vilminore, le due comunità montane, quindi di Clusone e di Vilminore, il CAI e il Parco dell'Aurobio e Bergamasche. L'Università degli Studi di Bergamo è tra i migliori atenei italiani per lo studio delle discipline economico-statistiche, giuridiche e di ingegneria. Questo è quanto rilevato dall'indagine annuale del Censis dedicata all'area didattica delle lauree triennali e magistrali di università statali e non. Secondo il rapporto per l'area dedicata alle valutazioni delle lauree triennali negli atenei statali, Bergamo è al secondo posto in Italia per il Dipartimento di Ingegneria con 103 punti. Fa meglio solo il Politecnico di Torino. Sempre nell'ambito delle lauree triennali rientrano nella top 10 le lauree afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza e di Scienze Aziendali Economiche e Metodi Quantitativi, rispettivamente al settimo posto con 93 punti dopo Brescia e prima di Bologna e al decimo posto con 94 punti dopo Trieste e prima di Siena. Cambiamo argomento, lavori in arrivo all'oratorio di Clusone, gli interventi partiranno dopo la festa che come ogni anno conclude anche l'avventura del CRE. Sentiamo che cosa c'è in programma. Preparativi in pieno svolgimento, l'oratorio di Clusone, tra pochi giorni inizia la festa dell'oratorio, staffetta ideale come ogni anno con il CRE. Sì, il CRE va verso la conclusione e da mercoledì a domenica la festa dell'oratorio. Preparazione in corso che quest'anno è stata un po' più complicata del solito perché come si legge anche dai giornali ci sono delle nuove norme, c'è anche tante nuove normative da rispettare ma anche quest'anno direi siamo pronti a cominciare questo momento di festa che lo ricordiamo vuole essere davvero un'occasione per le famiglie. La nostra è una festa di famiglie e di giovani insomma. Questo è un po' lo stile con cui proponiamo sia il momento così della cena ma anche così il dopo cena con i gonfiabili per i bambini, con degli spettacoli che per due sere mercoledì e domenica sono dedicate diciamo così al CRE e invece giovedì, venerdì e sabato con dei gruppi di un certo livello. Quest'anno avremo il tributo a J-AX e Fedex e poi avremo la Banda Liga venerdì e sabato i Radio Village con sempre un pre-serata fatto anche da alcuni artisti locali come sempre cerchiamo di valorizzare anche il bello che viene così dalla nostra vale, dal nostro territorio. Una festa che ovviamente serve anche a stare insieme ma serve anche a contribuire ai bisogni dell'oratorio che sono sempre tanti. Quest'anno in modo particolare la festa sosterrà i lavori prossimi che l'oratorio in estate dovrà affrontare per la messa in sicurezza di alcuni ambienti, soprattutto sul piano terra, quello del bar che ha più bisogno di interventi urgenti e importanti e la festa che ha sempre comunque uno sguardo così solidale. Ci piace pensare non solo noi stessi ma il Vangelo ci insegna appunto a guardare anche ai bisogni degli altri e quest'anno l'obiettivo solidale della festa sarà un progetto locale di Caritas, Comune, Parrocchia e San Vincenzo a favore delle famiglie più bisognose della nostra clusone ma anche dei ragazzi, degli adolescenti in quello che si chiama così un po' la marginalità che non è solo rischio grave ma è anche la cura dei nostri ragazzi, del cortile del nostro oratorio, di alcuni ai posti della nostra clusone attraverso anche un educatore che farà questo servizio e che ha già cominciato durante questo anno. Insomma siamo pronti per fare festa, aspettiamo davvero tutti voi a far festa con noi da mercoledì sera alle 19 fino a domenica sera perché davvero questa festa oratorio sia una festa di comunità, sia festa per tutti, ci aiuti a divertirci ma davvero anche a tenere alto lo sguardo sulle cose belle e importanti della vita. E dopo la festa subito il via ai lavori? Sì, dobbiamo intervenire in tutto il piano terra del nostro oratorio in quanto il riscaldamento che compie 45 anni nel prossimo autunno sta dando davvero dei bei problemi, già nello scorso anno siamo intervenuti su tutto l'impianto diciamo così idraulico che ha 45 anni e quindi ha i suoi problemi, l'urgenza di intervenire sul riscaldamento farà in modo che sistemeremo davvero tutto il primo piano, o meglio il piano terra del nostro oratorio, quello del bar, quello della sala compleanni, quello del salone sotto la chiesa che era dedicato fino a qualche anno fa allo spazio gioco dei bambini. Ecco, interventi necessari che non possiamo più rimandare perché rischieremo di iniziare l'autunno senza poter accendere il riscaldamento e che vedono comunque davvero un investimento anche importante di tutta la comunità a favore dell'oratorio, a favore dei giovani e quindi credo che davvero anche questo intervento che potrete vedere poi realizzato dalla metà di settembre in poi servirà davvero al bene del nostro oratorio, al bene dei nostri ragazzi, al bene di coloro, di tutti coloro che frequentano questa bella struttura della nostra comunità. Ci fermiamo per una pausa, tanta carne al fuoco al rientro, andremo a Pisogne dove torna con una nuova edizione, Lungo Lagoloso, poi parleremo di libri con un romanzo scritto da un clusonese e poi sempre a Clusone, questa volta parlando di sport perché torna la gara di corsa in centro e poi naturalmente la nostra rubrica questa sera dedicata al mondo degli animali. A tra poco. Rieccoci con il nostro Tg, riapre il ristorante a cielo aperto di Pisogne, giovedì 19 luglio torna a Lungo Lagoloso il percorso enogastronomico musicale in riva al Sebino. Per i partecipanti la possibilità di scegliere fra menu esclusivi, quest'anno anche con la variante vegetariana. Sentiamo. Pisogne si prepara ad ospitare una nuova edizione di Lungo Lagoloso, la settima per precisione che sarà in tavola giovedì 19 luglio. Che cosa avete preparato quest'anno? Settima edizione di Lungo Lagoloso è un evento che è diventato un punto di riferimento tra le iniziative enogastronomiche del Sebino. Come sempre Lungo Lagoloso è sinonimo di un servizio di prim'ordine e una location esclusiva in quanto il percorso si sviluppa sul Lungo Lago di Pisogne e quindi le persone potranno godersi il tramonto sul lago in un vero e proprio ristorante a cielo aperto, agliettati anche da percorsi musicali. Lungo Lagoloso è sinonimo anche di piatti di elevata qualità. Anche quest'anno i ristoranti propongono piatti eccellenti con spesse volte anche prodotti a chilometro zero. Troviamo infatti l'olio del Lago di Zeo, ovviamente pesce di lago, formaggio della Val Palotte e salumi delle frazioni di Pisone. Quindi un'attenzione particolare anche alla tipologia di piatti proposti. Ma soprattutto la novità di questa edizione è un menu appositamente studiato per vegetariani. Quindi al tradizionali percorsi rosso e blu abbiamo abbinato un percorso verde. Come sempre il suggerimento è quello di munirsi prima del ticket in quanto i posti sono limitati. Quindi anche se l'evento è giovedì 19 con partenza tra le 20 e le 21 da Lungo Lago di Pisogne, il suggerimento è quello di organizzarsi prima acquistando quindi prima il ticket presso la Proloco o presso tutti i ristoranti che aderiscono all'iniziativa. Da sottolineare anche quest'anno la sinergia che si crea tra Proloco e ristoranti del Paese. Sì, i ristoranti in modo lungimirante hanno davvero capito l'importanza di investire in prima persona in eventi come Lungo Lago Loso e per questo da anni partecipano a questa iniziativa investendo sia risorse economiche, sia di tempo, sia in persone gratuitamente, proponendo come dicevo prima anche dei piatti eccellenti. E la conferma è data dal fatto comunque che ogni anno abbiamo partecipanti che arrivano da tutte le province della Lombardia, quindi non solo in ambito locale. Sono le vittorie e le sconfitte del Milan a far da sfondo alla storia narrata nel romanzo Indiavolati, scritto a quattro mani dal clusonese Stefano Giudici Beta e da Elena Ricci. Spazio all'intervista. Ecco, ma innanzitutto come mai scrivere un libro e poi intitolare Indiavolati? Allora, la scrittura nasce da una passione che ho da sempre appunto per nello scrivere, nel raccontare storie e è nata un'idea quasi per caso insieme alla coautrice Elena Ricci e abbiamo deciso appunto di mettere nero su bianco questa storia. Il titolo prende spunto da quello che è la storia di fondo di questo libro, cioè il libro è il racconto di un gruppo di amici, un romanzo, un gruppo di amici la cui vita si svolge nell'arco dei vent'anni con tutte le varie fasi della crescita che passa dallo studio, poi al lavoro, poi a cose anche più importanti e per definire meglio questa storia abbiamo utilizzato come pietre miliari le vittorie e le sconfitte del Milan in Coppa dei Campioni durante quei vent'anni e da lì nasce anche il nome, ecco, abbiamo preso spunto da quello e abbiamo deciso per questo nome. Un buon libro d'ombrellone? Sì, decisamente, perlomeno i riscontri che abbiamo avuto da chi ha già acquistato la copia e la letta parla di un romanzo appunto scorrevole, piacevole anche se non sta a me dirlo e l'ideale è appunto approfittare delle vacanze estive per poterlo leggere. Ci tratta di un libro abbastanza consistente perché sono un bel po' di pagine, però come dicevo prima la lettura è scorrevole, si lascia leggere, ecco, anche perché il tema è molto variegato per cui non ha noia e è stato edito dall'Europa Edizioni, è una casa editrice di Roma e è già disponibile nei maggiori shop online e dovrebbe arrivare anche nelle librerie a brevissimo, la distribuzione è un attimo più complessa però dovrebbe essere disponibile a brevissimo. E se uno ti fasse anche un'altra squadra? No, assolutamente non, sicuramente troverà magari dei riferimenti poco piacevoli in alcuni casi, magari piacevoli in altri proprio perché parla anche di sconfitte della squadra che è la mia squadra del cuore, però non è un libro prettamente sul calcio, non parla di calcio, parla di tante altre cose e sicuramente può piacere anche a chi non è milanista di fede. Adesso lo sport dopo il via della scorsa settimana a Gromo, seconda tappa per il circuito Corri nei Borghi, venerdì scatta di nuovo a Clusone la Corri in centro. Ci ricorda la tappa di Clusone? 20 luglio, dalle 19 in poi ci saranno i bambini e poi andare con tutte le altre gare, dei grandi fino ad arrivare alla gara dei top che sarà verso le 21-21.15. Il circuito? Il circuito come sempre con le sei gare è sicuramente un grande spettacolo perché ci sono anche grandi campioni, quindi un bello spettacolo sia di atleti che anche di persone che presenzieranno sui vari percorsi. E questo per voi è un appuntamento importante? Assolutamente sì perché ci presentiamo per la quattordicesima volta e sarà un grande spettacolo sia per la gente che visionerà il percorso e le gare sia per noi che organizziamo perché siamo molto orgogliosi di essere arrivati fino a qua. Uno spettacolo serale? Assolutamente sì, serale. Allora per quello che riguarda il circuito Corri nei Borghi, tredicesima edizione, il pool atletica è stato sempre presente per quello che riguarda l'organizzazione della gara competitiva FIDAL sia maschile che femminile. È un progetto che ci stediamo molto tenendo in considerazione che il periodo luglio-agosto per quello che riguarda l'attività FIDAL sul territorio non c'erano tantissime gare e questo a livello di promozione di atletica è molto importante, specialmente anche a livello giovanile. E ci aspetta adesso un nuovo appuntamento con Quala Zampa, la nostra rubrica dedicata al mondo degli animali a cura del veterinario Stefano Gusmini. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il veterinario qui su Antenna 2, parliamo in questa puntata degli acari delle orecchie che possono colpire i cani, i gatti e anche i conigli. Viene chiamata anche questa malattia rogna otodettica proprio perché colpisce l'orecchio ed è una rogna intesa come un'affezione da parte di alcuni acari, questi sono acari molto piccoli, più piccoli di un millimetro che infestano appunto l'orecchio, è molto contagiosa quindi è più facile che venga rinvenuta in canili, in allevamenti dove ci sono magari colonie di gatti che non nel cagnolino singolo che esce poco e frequenta altri animali, comunque è un parassita che è abbastanza facilmente rinvenibile nelle orecchie degli animali. Come potete accorgervi, se il vostro cane, gatto, coniglio ha questo acaro, innanzitutto si gratterà frequentemente le orecchie, potrebbe sbattere la testa proprio dovuto al prurito e se guardate bene all'interno dell'orecchio vedrete del cerume, dello sporco che non sono altro che le deiezioni, quindi le feci di questi acari che vengono rilasciate. Come fa il veterinario a stabilire se effettivamente è un acaro o è solo un po' di cerume? Generalmente si fa un piccolo prelievo, si raccoglie di questo materiale dall'orecchio, lo si guarda al microscopio e si possono vedere gli acari muoversi. A questo punto si interviene sicuramente con dei prodotti specifici. Cercate di non fare del cosiddetto fai da te con questi prodotti perché il contatto con il timpano e con l'orecchio può essere pericoloso, è un organo piuttosto delicato, quindi cercate di fare una diagnosi al veterinario e poi utilizzare i prodotti di contatto che vanno immessi nell'orecchio, solo quelli in cui viene specificato nel foglietto illustrativo che possono essere immessi all'interno dell'orecchio. Altri prodotti che combattono gli acari potrebbero essere tossici o comunque dannosi alle orecchie. Sicuramente una malattia, come abbiamo detto, contagiosa per cui quello che potete fare è sicuramente tenere controllate le orecchie del vostro cane o gatto, tenerle pulite, detergele utilizzando un panno, non utilizzate i codetti cotton fioc perché potrebbero causare più danno all'interno dell'orecchio soprattutto se il cane si agita, prendete un panno inumidito e tenete pulite le orecchie del cane o del gatto. Se il problema persiste rivolgetevi in un ambulatorio dove potranno appunto fare un piccolo prelievo del materiale all'interno dell'orecchio e dirvi effettivamente se avete il problema dell'aronia autodettica oppure è solo un po' di accumulo di cerume. Quindi controllate bene e soprattutto gli animali che hanno le orecchie cadenti come alcuni cani da caccia, come alcuni conigli con le orecchie appunto cadenti dove l'ambiente è più favorevole alla crescita di questi acari. Per questa puntata di Quala Zampa è tutto, ci vediamo settimana prossima con un nuovo argomento. Arrivederci! Adesso una breve pausa, ci rivediamo tra poco con la parte finale. Di nuovo in onda con il nostro Tg, apriamo anzitutto la nostra pagina degli auguri che questa sera è dedicata ad Andrea Franchina di Leffe che compie 7 anni. Auguri di buon compleanno dai nonni Maria e Piero, da zia Manu, Ceci, Michele, Simona e Sara. E naturalmente tanti auguri anche da parte di Antenna 2. E adesso i programmi di Antenna 2, questa sera sul nostro canale principale. Alle 20.40 il sasso nello stagno, si parlerà della proposta di vietare il telefonino nei ristoranti. Alle 21.30 la rubrica di sport Hard Track, alle 22 più salute news, alle 22.15 eccellenze in sanità, alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale, alle 23.10 Potadea la trasmissione dedicata al ritiro dell'Atalanta. Il canale News 218, alle 21.30 il telegiornale, alle 22.10 l'anteprima Target, questa sera un servizio sul pallio degli asini di Son Gavazzo. Il canale sportivo 628, alle 20.30 Potadea, alle 21.30 la partita di calcio in replica Virtus Lovere Cividatese. Infine le previsioni del tempo, domani su Alpi e Prealpi Lombarde, cielo generalmente sereno, con possibile formazione di qualche cumulo ed evoluzione diurna, temperature in innalzamento. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.